Ciao Spinkers, sono Martina, una beauty content creator di Spink Up. Oggi vi stupirò mostrandovi come tutta la magia di un tramonto può essere racchiusa in un olio illuminante per il corpo. Si chiama Golden Light Body Oil e contiene 12 oli vegetali che nutrono la pelle in profondità lasciandola liscia ed elastica. Il profumo è naturale, un cocktail irresistibile di pompelmo, arancia, bergamotto, mandarino, ananas, mela, melograno, cardamomo e sandalo. Ma io lo so che state ancora pensando al tramonto. Le miche naturali riflettono il naturale scintillio del sole, regalando a tutto il corpo la naturale luce dorata della Golden Hour. E ora uno scoop che non ti aspetti. Questo Body Oil migliora l'aspetto di smagliature e cicatrici. Sì, hai sentito bene. Altri vantaggi? Eh sì, non sono finiti. Sentite un po' che cos'altro ci offre questo Body Oil. Ha un'azione antiossidante e rassodante. Ha una texture vellutata ad assorbimento rapido. Non tinge, non macchia e non unge. Inoltre non contiene oli minerali, siliconi, parabeni e particelle di plastica. Infine è adatto a pelli sensibili e si può usare anche in gravidanza. Lo troverai in un flacone di vetro da 100 ml. Io non ve lo farò scappare.